Stiamo parlando dei carismi di Padre Pio in queste puntate in compagnia del nostro ospite, testimone anche studioso di Padre Pio, il dottor Giuseppe Caccioppoli e stiamo cercando di capire anche la funzione che questi doni avevano nella vita sua, cioè dello stesso Padre Pio e anche dei suoi fedeli, dei suoi figli spirituali, dei suoi devoti. Oggi vogliamo parlare della capacità che talvolta Padre Pio mostrava di conoscere avvenimenti futuri. Ci vuoi raccontare qualche episodio? I frati che vivevano vicino a Padre Pio osservavano, sentivano, giudicavano, pensavano e qualche volta, diciamo così, un po' approfittavano di domandargli delle cose. Vedevano che lui lo faceva con tutti, diceva perché non lo posso chiedere per io. E così Padre Covino, che nel suo libro Ricordi e testimonianze, riporta qualche fatterello di cui era il protagonista. E ricorda un episodio di quando lui era ancora bambino, era ancora un fanciolo, e sua madre assunta, chiese a Padre Pio se Paolo aveva la vogliazione e Padre Pio disse sì, arriverà al sacerdoccio. Padre Paolo fu ordinato sacerdote il 21 marzo 1942 e ebbe il privilegio di trovarsi al momento della morte di Padre Pio fu lui che amministrò le estreme un giorni al Padre al momento della sua morte. Ecco, qualche altro frate ebbe la possibilità di avere un'anticipazione di quello che sarebbe avvenuto. Ecco, si capitava, lo stesso Padre Paolo riporta che ci stavano 25 studenti al collegio Serafico nel 1930 e il direttore degli studenti, il Padre Fortunato da Serra Capriola, chiese a Padre Pio quanti di essi arriveranno al sacerdoccio, quanti dei 25? Padre Pio risponde, rimarranno soltanto 5. Padre Covino commenta, infatti solo Lodovico Rinaldi, Cristoforo Coccomazzi, Vittorio Massaro, Pietro Tartaglia e lo scrivente Paolo Covino diventarono sacerdoti. Anche qualche frate di altre province ebbe la stessa possibilità? Padre Gaetano da Ischia Castro, nell'agosto del 1922, chiese a Padre Pio quanti dei sei studenti sarebbero diventati religiosi e sacerdoti. Padre Pio risponde solo due e così, infatti arrivano al sacerdoccio solo Padre Alberto da Polito da San Giovanni di Rotondo e Padre Cristoforo da Vic del Gargano. Eppure questo si avrò. Invece per un altro religioso c'è stata una profezia di tipo diverso, una profezia che non riguardava la sua vocazione e il compimento degli studi per arrivare all'ordinazione. Il padre Giambattisto Lomonaco scrisse un suo diario dei contatti avuti con Padre Pio e rivela una cosa, che lui era pauroso, era molto pauroso nella vita. E mise insieme dei momenti, episodi di cose che gli erano capitati. Per esempio il 26 aprile del 1939 disse a Padre Pio che lui si spaventava dei toni e lampi. E Padre Pio gli rispose, non ti spaventare dei fulmini perché non morirai fulminato. E così lui era pauroso e si calmò un poco, perché in tante altre occasioni, Padre Pio doveva incoraggiarlo, come il 7 marzo 1940, c'era stato un terremoto a Palermo. E il padre Giambattisto disse a Padre Pio, c'è stato il terremoto a Palermo, Padre Pio stai tranquillo, non morirai sotto la masceria. E ancora il 4 marzo del 1940, il padre Giambattisto Lomonaco andò da Padre Pio, sa padre io devo partire per l'America. E chiese a Padre Pio di pregare per lui. E Padre Pio dice, non ti preoccupare, lui disse, non vorrei finire come Giona nel ventre di una ballena. E Padre Pio gli disse, non ti preoccupare, non morirai annegato. E poi ancora, celebrò la prima messa a San Giovanni Rotondo nel 1937. E Padre Pio gli disse, prenototi pure per il venticinquesimo e io ascolterò la tua messa. Così avvenne. Poi Padre Pio gli disse, al venticinquesimo, allora prenototi pure per il cinquantesimo, io non ci sarò ma tu sei. E tutto avvenne come Padre Pio aveva predetto. Quindi Padre Pio prediceva la sopravvivenza ma talvolta ha predetto anche una morte imprevedibile agli occhi umani. Certamente, è come se lui avesse un filo diretto con qualcuno per queste cose. È perché capitava continuamente. Non lo so, c'è il caso di un padre dominicano che aveva la direzione spirituale di una certa anima, di una signora. E volevo fare dei piani a lungo termine e chiesi a Graziano Borrelli di parlarne con Padre Pio. Graziano Borrelli era un figlio spirituale che veniva frequentemente. Parleghi un po', dimmi un po' in che direzione generale. pensava lontano. Padre Pio disse a Graziano, digli di preparare quell'anima al confronto con Dio. La preparasse al grande passo della morte. Quando Graziano Borrelli tornò, quel padre dominicano, non aveva capito niente, non capisce niente qua, perché non lo so. Dice, quella stava a morire, quella sta così bene. E così, sorrisette, fece un sorrisetto e rimase incredulo riguardo al messaggio. Però dopo 15 giorni, il padre dominicano si ricredette perché telefonò a Borrelli per dirgli che quella signora era morta. E invece vogliamo concludere con il caso, un caso in cui Padre Pio ha predetto non solo la sopravvivenza ma anche la guarigione. Cioè la sopravvivenza di una persona che era malata, che si pensava dovesse invece terminare i suoi giorni. Quindi è l'esatto opposto dell'episodio precedente. Prima abbiamo parlato di una nonna che stava bene e che poi è morta, come aveva predetto Padre Pio. In questo caso una persona malata rischiava di morire e il Padre Pio cosa gli disse? Questo è il caso di Bernardino Cardinale, era un signore di Roma che fu operato ai polmoni. E gli furono asportati un polmone per intero e un'altra metà dell'altro polmone. Così rimasi solo con mezzo polmone e i medici consigliarono ai familiari di riportarlo a Bari per farlo morire in casa. La moglie andò con Bernardino da Padre Pio a San Giovanni Rotondo e Bernardino disse a Padre Pio padre, vivrò, lavorerò, io non posso morire, io ho un figlio di sei anni e lo voleva vedere crescere, aiutarla a crescere e non voleva morire. Padre Pio gli batte più volte la mano sul petto e gli disse vivrai, lavorerai e quanto lavorerai e così avvenne. Dopo tanti anni lui riportò personalmente questo episodio di Vigliere Capitale. E questo episodio è narrato da... Nel libro di Padre Marcellino Iassenzaniro, queste sono le testimonianze date da alcune persone, alcune da Padre Pio. Ecco, tu sei medico, di fronte a questo episodio, si può sopravvivere con mezzo polmone? In teoria si può, anche con una vita limitata, molto limitata quello che puoi fare, però puoi respirare ancora, puoi ancora sopravvivere. E non è più una vita, è una sopravvivere, diciamo. E quindi lui avrebbe voluto vivere normalmente per poter provvedere alla famiglia. Con mezzo polmone tu non puoi provvedere alla famiglia. E Padre Pio gli ha detto vivrai, lavorerai e quanto lavorerai e così è stato. Cioè ha lavorato e ha lavorato tanto nonostante il mezzo polmone. Quindi anche in questo caso due eventi straordinari, il parere espresso circa il futuro, la futura sopravvivenza, nonostante il parere scientifico contrario dei medici che dissero portano a morire a Bari. Esattamente. E il fatto che comunque è avvenuto che una persona con mezzo polmone non solo è sopravvissuta, ma ha lavorato e ha lavorato tanto. E ha provveduto alla famiglia. E questo è uno dei tanti episodi che ci lasciano capire come Padre Pio utilizzava questi carismi ricevuti dal Signore per aiutare chi si rivolgeva a Lui, per aiutare chi era in particolari situazioni di bisogno. Utilizzava questi metodi per trasfondere la misericordia divina in favore di chi più era in uno stato di necessità. la utilizzava, utilizzava questi doni come strumento di carità. E noi continueremo a parlare di episodi che riguardano il rapporto fra Padre Pio e i suoi figli spirituali, o fra Padre Pio e persone che comunque hanno interagito con Lui, che comunque hanno incrociato la loro vita con quella del Santo. E continueremo ad avere con noi ospite il Dottor Giuseppe Caccioppoli per aiutarci a scoprire alcuni fatti meno conosciuti della vita del Santo di Pietrelcino. Ci vediamo alla prossima puntata.